Buongiorno a tutti, Ministro, Presidente della provincia autonoma di Trento, Presidente della regione Lombardia, Vice sindaco, sindaco di Trento, autorità militari, civili, gentili ospiti e per tutto il personale di FBK è veramente un onore oggi accogliervi qui. La domanda è perché siamo qua, però adesso dobbiamo farcela, dobbiamo chiederci perché oggi dedichiamo parte del nostro tempo prezioso a parlare della Fondazione Bruno Kessler, università, enti di ricerca, imprese, società civile e della sanità. Certo la prima risposta è evidente, l'abbiamo già parlato, il Presidente Fugati ce l'ha annunciato, presentiamo il piano mandato 24-27 della Fondazione Bruno Kessler, una fondazione che nasce da un'intuizione del suo fondatore, da cui ancora prende il nome, per stimolare formazione e ricerca in un territorio che fino ad allora poteva contare su altri punti di forza. Un'intuizione lungimirante che è ancora estremamente attuale oggi per due motivi. Il primo perché da allora c'era la volontà di legare studi umanistici con discipline scientifiche e tecnologiche. Il secondo è che quando si è deciso di focalizzare su quali discipline scientifiche e tecnologiche si decise di puntare su microelettronica e su machine learning, oggi la chiamiamo intelligenza artificiale. Ma dalle riflessioni di questi mesi, di questi pochi mesi da cui sono il presidente, durante la stesura di questo piano è emersa una visione chiara molto più ampia del piano di mandato stesso e che abbiamo quindi ritenuto di condividere oggi con voi. Infatti quella che prima era un'intuizione accademica, un'intuizione sulla ricerca, oggi e l'abbiamo sentito dalle parole che abbiamo sentito inizialmente anche dall'Europa, da Roberto Viola che ringrazio per il suo intervento, diventa un'enorme opportunità. E non dobbiamo farci trovare impreparati, perché abbiamo bisogno, e diciamolo subito quali sono gli ingredienti, abbiamo bisogno di prendere consapevolezza delle potenzialità per far emergere le necessità, i needs, quali problemi vogliamo risolvere. Abbiamo bisogno di idee innovative e soluzioni risolutive per questi problemi e abbiamo bisogno di persone pronte e competenti e abbiamo bisogno soprattutto di non pensare in piccolo, limitatamente quindi alla nostra organizzazione e quindi riprendendo esattamente lo spirito originario di Bruno Kessler che voleva ampliare, allargare, portare fuori dal piccolo quello che era la nostra vocazione, siamo venuti qua, siamo venuti in borsa, un'infrastruttura del lavoro e dell'impresa con voi, soprattutto con voi che state, e mi spiace dirlo ma dobbiamo essere consapevoli, stiamo e state ridisegnando il futuro del nostro paese. E quindi facciamo un attimo un passo indietro, andiamo a vedere di che cosa dobbiamo andare a parlare. Abbiamo visto che viviamo giorni caratterizzati da grandissime incertezze e volatilità, abbiamo vissuto anni di emergenza, li abbiamo ricordati, li ha ricordati il Presidente Fontana, che ci hanno costretto, a me piace dire invece che ci hanno permesso di scardinare alcuni vincoli, di scardinare alcuni preconcetti, di toglierci dal non si poteva fare, accelerando percorsi di digitalizzazione e di integrazione. E non possiamo dimenticare tutto questo. Stiamo vivendo ancora anni di crisi geopolitiche che hanno rimesso molto in discussione e che ogni giorno ci lasciano davvero un senso di impotenza. Però io penso che tre siano gli scenari che hanno dinamiche più lunghe. Fiducioso che queste crisi si spengano il prima possibile, tre sono quelli che caratterizzano i prossimi decenni. Uno, ne ha già parlato Roberto Viola, i cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici che un tempo erano lontano, l'Amazzone, la Greolandia, oggi sono qua, da noi, vicini, ci toccano direttamente. Qualche settimana fa ero a Venezia, ero a Venezia al Mose. Pensate, il Mose negli ultimi due anni è andato in difesa della città di Venezia 50 volte, 5 volte in più rispetto a quello che si pensava quando è stato progettato. Il secondo tema sono le dinamiche demografiche, le natalità, invecchiamento, immigrazione, sono elementi che modificheranno completamente e profondamente la nostra società, introducendo nuove esigenze culturali, sociali, economiche. Dobbiamo assolutamente avere la consapevolezza di questo tema. Il terzo è la digitalizzazione con i due grandi temi. Il primo è già citato, capacità di calcolo vicina a quella del cervello umano. Il secondo, forse da fermarsi un secondo, è la rapidità di adozione di queste tecnologie, molto più veloci di quello che noi ci accorgiamo. ChatCpt ha preso 100, è arrivato a 100 milioni di utenti al mese in due mesi. Se uno era semplicemente distratto non si è accorto. Allora, in questo contesto secondo me quattro sono i pilastri che possono diventare grandi opportunità o grandi criticità. La prima ne abbiamo già parlato, l'Europa. Esistono partite che si giocheranno a livello europeo, non solo legate alla ricerca, il Cips Act, le Yacht, le sono già state citate, ma pensate al tema del silicio, al tema delle batterie, al tema dello spazio. Sono assolutamente partite europee. E se il nostro Paese non avrà massa critica e qualità, rimarrà escluso necessariamente, sì, ci daranno un contentino, ma rimarrà escluso in maniera importante. Il terzo è il posizionamento sulla sostenibilità. Probabilmente una sostenibilità più bilanciata dai tre valori ISG, probabilmente una sostenibilità più neutrale tecnologicamente, ma il nostro deve rimanere un posizionamento strategico per rispondere alle nuove generazioni, alle esigenze e alle sensibilità delle nuove generazioni, per una tendenza delle imprese e della finanza, lo sappiamo bene, siamo qua, per un posizionamento economico, politico, globale, oltre naturalmente che per una dovuta responsabilità civile. Il terzo tema grosso, il terzo pilastro, e qui davvero i territori devono fare una grande riflessione, sono quelle che in quelle dinamiche demografiche la prossima carenza, lo sappiamo, sarà non di energia o di materie prime, ma sarà di giovani talentuosi. Giovani oggi si muovono per andare a trovare destinazioni che intercettano le loro aspettative, le loro passioni, le loro sensibilità e i loro valori, e quindi assistiamo a una competizione tra città e territori internazionali per chiamare questi giovani talentuosi. E quindi serve un progetto di attrattività che vada oltre alle nuove e alle nostre organizzazioni. E infine l'intelligenza artificiale, uno tsunami, uno tsunami tecnologico. Naturalmente, fare una riflessione sull'AI oggi, con contenuti e visioni nuove, sarebbe difficilissimo. Ogni giorno abbiamo qualche cosa che viene scritto a livello scientifico, tecnico, economico, sociale, e quindi è complicato parlare di intelligenza artificiale dando nuovi spunti. Vorrei però condividere alcune riflessioni che ci hanno poi portato al piano. Se andiamo a rivedere quanto scritto nei primi anni 2000 su internet in Europa e in Italia, ci imbattiamo in significativi dibattiti. Questi sono alcuni dei titoli del 2000 che uscivano dalla stampa locale, nazionale. Sorsero le prime preoccupazioni riguardanti la protezione dei dati personali e la privacy. L'accesso libero e aperto a internet sollevò domande, domande sul controllo dei contenuti, sulla libertà di espressione, sul diritto all'informazione. L'emergere di internet naturalmente suscitò dibattiti sull'impatto sociale e culturale sulla tecnologia, sull'isolamento, sull'isolamento sociale, l'influenza sui giovani, le informazioni false, nacquero le prime preoccupazioni per il digital divide, sull'inclusione e la disparità, le preoccupazioni sull'occupazione, sulle nuove competenze e si cominciò a capire la necessità di nuove regolamentazioni. Se cambiamo la data di quei giornali, io credo che le stesse tematiche, privacy, controllo, impatto sociale, impatto sull'occupazione, sono esattamente le stesse che vediamo oggi e che si ripresentano oggi con l'intelligenza artificiale vent'anni dopo. Una nuova tecnologia pervasiva, una nuova tecnologia ad ampia diffusione, una nuova tecnologia a non controllato sviluppo. Allora, proprio queste analogie ci impongono la responsabilità di non fare gli stessi errori. L'abbiamo già visto, un film che abbiamo visto. Proprio gli stessi errori che abbiamo fatto quando c'è stato l'avvio di internet. Perché il nostro paese, probabilmente tutto il vecchio compitinente, è stato in ritardo, in ritardo sullo sviluppo, abbiamo subito passivamente l'ingresso di internet nel nostro business, sulla regolamentazione, sulla creazione di valori. Negli anni Ottanta nascevano Amazon, Google, Facebook, Alibaba e tutto questo. E noi, invece, aspettavamo e ci chiedevamo se internet sarebbe stato utile per i nostri business. Forse 15 anni dopo, ricordo Spotify, nel settore della musica, o Yux, ma 15 anni dopo. Bene, nei prossimi anni assisteremo alla stessa dinamica economica. Assisteremo al pari sviluppo del business, assisteremo alle nuove aziende che nascono e nuove professioni grazie all'intelligenza artificiale. E allora dobbiamo porcelo il problema, però non dobbiamo quindi perdere tempo, e dico così, perdere tempo, a decidere se c'è CPT, è affidabile o meno, se è pericolosa l'intelligenza artificiale o è controllabile, se i rischi sono maggiori o minori delle opportunità. Attenzione, mi spiego bene. Benvenga che l'Europa definisca regole e limiti. Benvenga che l'Europa definisca regole e limiti. Ma noi abbiamo un altro compito, abbiamo il compito di accelerare il processo di innovazione grazie all'intelligenza artificiale, per non farci trovare di nuovo impreparati e in ritardo. Però per fare questo dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando, cosa è l'impatto sul nostro business. Perché AI non è solo un'app che noi abbiamo scaricato sul nostro smartphone. E allora fatemi dedicare due minuti, fatemi fare il professore due minuti. Che cos'è? Allora, innanzitutto è uno strumento che permette di legare un input a un output. Variabili di input a variabili di output. In molte discipline, questo si chiamerebbe modellistica, modelli provisionali, modelli di simulazione. Il legame che è in grado di definire tra input e output, però, non è figlio strettamente di una legge fisica che conosciamo, di una relazione matematica. È un legame non lineare, è un legame complesso, è un legame modificabile nel tempo. Dati omici, dati clinici, immagini di un vetrino piuttosto che di un attacco o testuali come la cartella clinica, che in qualche maniera vengono affrontati da un'elaborazione di un'intelligenza artificiale per dare come output sistemi di supporto alla diagnosi, supporto alle decisioni, protocolli di cura e prevenzione. La cosa più significativa di tutto questo è che per quell'algoritmo di AI è assolutamente facile gestire variabili fortemente eterogenee. E' lo stesso per loro, dati, immagini, suoni, testi. E questa è la novità che abbiamo dal punto di vista modellistico. E come tutti i modelli necessita di una fase di messa a punto, di identificazione dei parametri del modello, si direbbe. E quindi si parla di addestramento, di apprendimento di queste reti neurali che sono un po' alla base dell'intelligenza artificiale. Naturalmente, tanto più è alto la qualità e l'ampiezza dei dati, tanto migliore è il modello. E come tutti i modelli ha dei limiti. Se la facciamo lavorare fuori da quel perimetro, è fallace. Io dico, è per fortuna fallace. Nel senso che noi continuiamo a governare quella che è la sua applicabilità. Ciò che però ci spaventa, una volta finito tutto questo processo, è che noi non riconosciamo più il legame tra input e output. È fuori dalla nostra conoscenza. E ci spaventa, ci allerta anche un secondo passaggio. Cioè che la fase di apprendimento non si conclude. Cioè che questo modello continua a modificare se stesso perché naturalmente generando dati continua a migliorare se stesso. E quindi evolve. Evolve spontaneamente. Evolve senza un controllo. Ma allora, sembra un po' di ritornare, se ci pensate, ai grandi classici, quando con la ragione tentavano di interpretare le leggi fisiche. E quando qualche cosa scappava dalla loro conoscenza, dalla loro ragione, attribuivano il pericolo a una divinità. Quindi questo è quello che sta avvenendo quando noi abbiamo paura. Naturalmente quindi i timori sono gli stessi, dai classici a internet. Gli strumenti sono cambiati, ma sono simili. Perché i primi algoritmi di machine learning sono datati negli anni 80. Stiamo parlando di 50 anni fa. Io stesso ho scritto la prima rete neurale 25 anni fa. La differenza era che 25 anni fa, quando scrivevo quella rete neurale, il calcolatore più potente al mondo aveva la potenza di calcolo minore di un vostro smartphone. mentre oggi Leonardo, il calcolatore citato esattamente da Roberto Viola, a 200 km da qui, Cineca, in Italia, Bologna, ha la stessa potenza di calcolo, intesa come numero di calcoli al secondo, del cervello umano. E quindi oggi una tecnologia nata 50 anni fa diventa reale per due motivi. Abbiamo un'adeguata potenza di calcolo per l'addestramento di quel modello, per fargli vedere tanti dati e quindi essere meno fallace, e abbiamo tanti dati. Abbiamo tanti dati perché siamo pieni di apparati digitali, noi stessi. Abbiamo tantissimi testi, grazie a internet. Abbiamo tantissime immagini, grazie naturalmente a una disponibilità di telecamere ambientali e non. E soprattutto abbiamo la connessione delle cose. Quindi possiamo inserire un microsensore in un'infrastruttura, in un apparecchio, in un macchinario. Diventa centrale, naturalmente, la qualità e la certificazione dei dati. E questo è un altro tema molto importante. Però, anche qui, torniamo a noi. Che cosa significa per il nostro business, per la nostra impresa, per la nostra organizzazione, per la nostra istituzione pubblica? È difficile fare un esempio per ognuno. Però io penso che, se oggi non ci facciamo la domanda quali dati possediamo, come li stiamo valorizzando, quali e quanti progetti di AI abbiamo in fase di studio, in fase di sperimentazione nella nostra organizzazione, siamo già in ritardo. E veniamo in concreto, non è solo la sanità, perché la qualità del prodotto, la capacità di cambiare la produzione, se entrano scenari o eventi imprevedibili, sono un'esigenza di tutte. Qualche anno fa, proprio alla Fondazione Bruno Kessler, abbiamo lavorato sulla raccolta dell'uva. Proviamo a usare lo stesso schema. Da immagini satellitari, che stimavano la vigoria fogliare, da una previsione molto puntuale del meteo locale, da tutta una serie di dati presi sul terreno, era possibile addestrare una rete onorale che avesse la capacità di fare previsione della quantità e della qualità della produzione, ma soprattutto un supporto alla decisione di intervento sulla produzione quando, e nel caso ci fossero stati, eventi esterni, critici. Io credo che questo esempio, cambiate l'uva con un prodotto qualunque, con un prodotto, un processo, un servizio, sia assolutamente applicabile a molti settori. Perché prevedere la produzione e la qualità della stessa, anche in funzione di variabili esogene, come il meteo, o la tendenza di un consumatore, o la tendenza di un mercato, è esigenza di tutti. O ancora costruire il modello di previsione in grado di supportare la decisione in condizioni imprevedibili o inattese. Ottimizzare il setup di un macchinario, di una linea di produzione, di un'autovettura. Oggettivare valutazioni che oggi verifichiamo grazie a checklist manuali. Io vedo ancora manutentori, operatori, clienti, a cui viene chiesto manualmente di riempire dei format cartacei con gli errori che poi l'umano può portare. Automatizzare una lettura di un testo, di un'immagine, ottimizzare la gestione di un patrimonio immobiliare, ottimizzare la gestione di un'infrastruttura per ridurre i costi, per aumentarne l'affidabilità. Se serve ottimizzare, pianificare, oggettivare, è pensabile inserire in quel processo, in quel prodotto, un'intelligenza artificiale opportunamente disegnata. Certo, come fare? Ognuno di noi può sviluppare autonomamente gli algoritmi, però può essere impegnativo. Oppure rivolgersi a realtà che lo sanno fare, in grado di svilupparli per noi. Oppure ancora acquistare un software dedicato, più o meno commerciale. Tutte strade possibili, però l'importante è che noi teniamo il pallino, noi dobbiamo avere la padronanza culturale per interagire con i nostri fornitori. Dove avere la consapevolezza dell'opportunità, la domanda deve venire da noi, dal nostro business, dalla nostra impresa, dalla nostra istituzione. E soprattutto dobbiamo mettere a fuoco quindi l'esigenza perché altrimenti subiremo il prodotto che ci verrà offerto e saremo di nuovo a essere in ritardo, in inseguimento. E quindi dobbiamo avere chiaro che AI per noi è un qualche cosa, che è una filiera più lunga, che parte dai dati, dalla qualità degli stessi, che siano naturalmente affidabili, attendibili, disponibili, che vengano da microsensori, da immagini da telecamere, dallo spazio, dai macchinari satellitari, o dalle fotografie, dalle nostre operatori, da noi stessi. Ma anche testi. Servono poi algoritmi. E qui davvero c'è da sbizzarrirci perché abbiamo una cassetta degli attrezzi ricchissima di algoritmi di intelligenza artificiale. Modelli più o meno strutturati, modelli che si basano nel linguaggio, modelli ibridi. Ma infine, quello che ritengo il vero valore è la domanda. Serve quindi avere chiara la politica industriale, di ricerca, di politiche pubbliche che noi vogliamo rispondere. Sensori, algoritmi, obiettivi. Se manca uno di questi tre ingredienti, AI è un gioco. Probabilmente anche un gioco inutile. Allora, sulla base di queste riflessioni abbiamo deciso di stendere un piano di mandato. Un piano che ha il centro, naturalmente, la ricerca. FBK è un centro di ricerca. È un centro di ricerca che è consapevole che di fronte a queste sfide la ricerca scientifica ha e ha avuto un ruolo cruciale. Naturalmente interdisciplinare, per tutto quello che ci siamo detti adesso, internazionale, in grado di rinnovare tecnologie, offrire soluzioni nuove, che deve essere però in grado di dare risposte tempestive alle emergenze. Perché questo può succederci di nuovo. E soprattutto, abbiamo bisogno di una ricerca che deve creare una rete per avere quella messa carattica e quella rilevanza per contare qualche cosa. Ma la complessità, quindi, è la sfida veramente delle sfide. Per affrontarla, dobbiamo evitare soluzioni un po' generaliste, un po' semplici. FBK ha le caratteristiche per farlo. Può vantare quella rete internazionale, è fortemente focalizzata nell'impatto che digitellazione AI in quella visione di filiera, però, da dati a politiche e algoritmi, avrà sulla sanità, sulle imprese, sulla città, sul territorio e sulle persone. E poi dispone di un laboratorio di prototipazione, di mini-produzione di microelettronica, che può rapidamente affiancare quella parte di algoritmi. Però vogliamo essere un po' più ambiziosi. Vogliamo porci un obiettivo di cercare anche di influenzare la produzione di intelligenza artificiale e non soltanto di produrre l'intelligenza artificiale. Cioè, la nostra missione è quella di affrontare l'era dell'intelligenza artificiale con rigore scientifico, ma con parole che ogni tanto dimentichiamo, qualità e un po' di saggezza, aiutando la società a governare l'impatto dell'intelligenza artificiale. E questo è un po' lo slogan e il claim che abbiamo bisogno sempre che abbiamo oggi qui lanciato. Un'intelligenza artificiale con al centro naturalmente la persona. Naturalmente definire scopo e missione è importante, ma senza un piano di esecuzione chiaro questa cosa qua non avviene. È un esigenzo sterile e per questo motivo vi abbiamo consegnato oggi il piano che si traduce in azione chiare e KPI misurabili, pubbliche, un impegno pubblico che oggi ci diamo. lavoreremo e li abbiamo raccolti attraverso i valori ISG, quindi ambiente, quindi progettualità e modelli per la gestione di risorse naturali, modelli di sorveglianza per crisi e catastrofi da sanitarie, pandemia, disastri, soluzioni per l'economia circolare, capacità dell'imaging dello spazio per governare spazi urbani, agricoltura che saranno nuove frontiere naturalmente tutto il tema della componente social che parte dalla sanità, da una sanità digitale sostenibile che parte però dalla prevenzione dal cittadino sano e non mette al centro la malattia, una transizione ecologica legata ai comportamenti, alle aspette comportamentali e le tecnologie come impatto del lavoro, del lavoratore, delle persone più fragili proprio per la capacità di unire quelle scienze umanistiche che ci danno etica e filosofia e infine la governance, la governance vuol dire responsabilità verso il territorio, territorio allargato, AI come strumento per preservare il know-how delle nostre piccole e medie imprese, altro grande asset su cui si può lavorare e naturalmente il tema della sicurezza che parte anche dalla rivoluzione quantistica. Un piano che ha richiesto una riorganizzazione e i nostri centri li abbiamo ricollocati in aree molto semplici AI for society, for health, for industry e sensor for AI chiaramente riconoscibili dall'esterno. Naturalmente per fare questo abbiamo voluto coinvolgere le imprese e siamo qui oggi grazie anche a loro e naturalmente sarà supervisionato da un advisory board di altissima qualità che voglio ringraziare è qui in sala composto da Vittorio Colau, Franco Locatelli, Matteo Lunelli, Antonio Marcegaglia, Francesca Pasinelli, Alessandra Perazzelli e Donatella Asciutto. Grazie davvero per aver accettato. Vado alle conclusioni. Il momento è interessante, è divertente, può essere divertente. Le tecnologie saranno un'opportunità per affrontare in modo responsabile tutto il cambiamento. È indispensabile definire le regole, ma è altresì importante che il nostro Paese abbia una squadra per giocare quando le regole saranno definite. E quindi mi dispiace, non sono più sufficienti commissioni e regolamenti. Servono giovani, laureati e laureati capaci e curiosi, innovativi e competenti e ve ne assicuro servono tantissimi di questi. Servono investimenti per promuovere i laboratori, per dare garanzia di stabilità a quei giovani che decidono di investire nel proprio futuro in Italia a fare ricerca. Serve promuovere start-up e nuovi business con predisposizione a rischio, combattendo davvero la paura del fallimento che troppo frena la capacità di fare impresa nel nostro Paese e serve supportare le nostre imprese per cogliere queste opportunità. Il terzo necessità è alleanze, un patto tra imprese, istituzioni, università e centri di ricerca che vogliono pensare in grande in termini di obiettivi, di investimenti e di ambizioni. Una rete di soggetti che condividono che il futuro dipende da competenze e conoscenze su queste tematiche, su queste filiere tecnologiche. Una conoscenza e una competenza che permetterà di far emergere nuove esigenze, nuovi bisogni e di trovare soluzioni per rispondere a questi nuovi bisogni. In altre parole, serve e dobbiamo essere in grado di sviluppare una nostra AI, non solo una nostra chat CPT che è stata annunciata da qualche giorno, ma una nostra AI in termini di settori di nicchia, di verticali. Una nostra AI figlia della nostra cultura e figlia dei nostri valori. Grazie a tutti per l'attenzione. Applausi Grazie.